L'Ottantacinquesimo compleanno Mi sta provocando, detective Se uno della sua famiglia l'ha ucciso No, no, Walt È questo che stai ipotizzando È una supposizione molto grave È bizzarro proprio che tu sia qui Che ti scomodi a fare? Vaffanculo Molto elegante Cos'è questo tono? Dovremmo farlo molto più spesso Ognuno dei parenti ha un possibile movente Tutti mi hanno mentito Tu sai qualcosa Parla Io sospetto si tratti di omicidio E non ho eliminato nessun sospettato C'è soltanto una persona colpevole dietro tutto questo Omio Dio E non ho eliminato nessun sospettato Grazie a tutti